Investiamo circa un miliardo e mezzo di euro per dare ulteriore slancio agli ETS e favorire l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Intendiamo formare nuovi docenti per percorsi di studio innovativi e potenziare le strutture a partire dai laboratori, che oggi utilizzano tecnologie 4.0. La riforma degli ETS attualmente all'attenzione del Senato dopo l'approvazione della Camera intende allineare la formazione tecnica superiore alle aree tecnologiche del futuro, come la mobilità sostenibile e le biotecnologie. Vogliamo sia approvata definitivamente nel 2022 insieme alla riforma degli istituti tecnici e professionali. Tra le nostre priorità c'è quella di colmare i divari di genere. A oggi solo il 28% dei diplomati ETS sono donne. Questo riflette un problema più ampio che riguarda la presenza limitata delle ragazze e delle donne nelle materie tecnico-scientifiche. È nostro dovere abbattere i pregiudizi e gli ostacoli che ancora ostacolano il talento femminile. Una sfida che possiamo vincere solo se partiamo dalla scuola.